Noi abbiamo fatto una scuola straordinaria, De Sica credo sia stato uno dei più grandi maestri, Fellini un grandissimo maestro. Io penso a volte in alcuni film, in alcuni attori, vedi proprio che ci sia un'ispirazione tipicamente italiana. Io in Robert De Niro a volte vedo le movenze di un attore italiano, vedi anche un po' di sordi, un po' di De Sica stesse. La grandezza di alcuni registi che abbiamo avuto noi, credo rimanga nel tempo, per sempre. Credo che chi voglia fare questo mestiere debba comunque andare a vedere quel cinema lì, quel cinema fatto dai grandi di un tempo. Ecco, qui vediamo Totò e Anna Magnani. Ancora un'altra Magnani non c'è, non c'è una nuova Magnani. Qui vediamo Alberto Sordine, Il Vigile, un film meraviglioso, vi consiglio di vederlo se non l'avete visto. Questi film qui credo siano immortali. Ecco, la forza di quel cinema lì è che non ti stanca mai.